Ehi la ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Zelda Breath of the Wild La scorsa volta abbiamo completato anche Varudania, ovvero abbiamo battuto il boss, abbiamo recuperato il legge della difesa plus Che in realtà non ho capito cosa aggiunga, cioè c'è scritto che si ricarica più velocemente, ok ma cos'altro mi aggiunge? Anche Mipha si aggiornava più velocemente C'è scritto che automaticamente tenendo lo scudo vi para, e quello lo faceva anche prima, ma fa lo stesso, va bene ce l'abbiamo Ora non ci resta che andare a fare la parte di rivali, ovvero Vamedo, per cui io mi teletrasporterei qui O almeno forse mi conviene qua, perché è più alto storicamente, e voliamo direttamente di là Tra l'altro io mi stavo anche scordando proprio che noi abbiamo da trovare anche tutte le armature del DLC Perché io adesso stavo pensando, ok faccio il, faccio i dungeon qua e là, e poi mi danno, e poi ho finito O comunque poi mi sbloccano altri quattro sacrari, non lo so, non so perché ho questa idea di altri quattro sacrari Perché in realtà pensavo che questi quattro non dessero, non das, non, quello, i plus Allora qua intanto ci vestiamo bene, non dessero i cosi plus lì, ma perché, perché mi viene dessero? Non so se è dessero, 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 non lo so Dopo mi vado a cercare su google, mi vado, sento un idiota Comunque, ehm, pensavo che avrei ricevuto, eh, che stava cambiato, hai visto? Pensavo che avrei ricevuto altri quattro emblemi da cambiare con dei portacuori o dei portavigori Che in realtà sarei stato anche più contento Dato che comunque quei robe lì non mi servono neanche quasi più, mi servono più i vigori Che in realtà non mi servono neanche quelli, però almeno da farli completi Però, vabbè Ciao sono sempre io, sì, giovanotto Ormai sto invecchiando a forza di fare sti cose Puoi dire che in tecnico troverai delle prove che ti andranno a diventare ancora più forte Ok Chissà cosa fa Vare, eh, Vare, Vare Valido per dire Bene, è diventato un, un colosso sacro adesso Per me ti fa volare più in alto In realtà sarebbe stato bello anche avere più utilizzi Sì, cioè tipo magari Varuta passa da uno a due E Rudania da tre a cinque Revali pure E roba così Questo monumento risale almeno diecimila anni fa Chissà quale è il suo vero significato Quando sei arrivato, adesso Non ti ho proprio visto Ci incontriamo di nuovo, ma quindi hai sentito che parlavo da solo? Sono abituato Hai visto proprio come pensavo? Anche qui c'è un monumento menzionato nella canzone incompiuta del mio maestro Oh, sono contentissimo Finalmente posso cantare di fronte ai veri monumenti Nel canto incompiuto del mio maestro C'è una parte indicata al campione Revali E alle prove che affrontò Lascia che te le accenni Sì, ok, qua mi dirà Dove sono? Con il vento amico saldo Vola me donna E il cilfavaldo L'orecola lo conduce Tra i campioni E il più veloce O tu che supplichi di rafforzare la sacra possanza Comunque le musiche sono molto belle, devo dire Percori le lande Cerca tre prove nel monumento E la tua speranza Prendi la mira Punta le corna del drago ardente Cosa? Con minuzia vira Scivola Eh, non lo so La tua mano freme Colpisci quattro bersagli insieme Per migliorare il sacro potere Le prove non devi temere Cos'è il drago di fuoco? Il drago ardente, quello? Che te ne pare? Ascoltando le leggende dei campioni più volte Comprendo a fondo le loro figure Ciò mi aiuta a creare i versi essenziali Che coraggio ci vuole per comandare un colosso sacro? Oh, sarò io a realizzare il sogno che fu del mio maestro Quello di portare al termine la canzone incompiuta Ma per farla devo rendermi edotto sul conto dei campioni Sorte mi ha riso Teba, il patriarca Khan del borgo dei Rito Mi hanno raccontato molte cose Ma il compito richiede di peregrinare per il mondo tutto La sosta al mio nido Non fu che una delle tante tappe Ok Va bene Fammi già vedere Dai, vediamo di che pianto morire No, link Dai, scatta immagini Su Allora Questo è dove cacchio sta? Io ragazzi di questo posto sapete che non lo conosco proprio? Cioè, è in mezzo a delle montagne Innevate Ok, quello lo lasciamo Magari lo troviamo dopo, eh Oh, porca vacca Anche questo Questo che cacchio è? Qua c'è qualcosa Questa è una costruzione Ok Ok, raga Questo sarà veramente complicato Mi immagino Questo sarà Veramente Complicato Dove cacchio stanno questi posti? Oh mio dio No, aspetta Ah, l'unica cosa che sappiamo di certo È che sono tutti vicino A A questa A Vamedou Ora bisogna solo capire davvero dove cacchio sono Allora a me questo qua tipo sembra un fiume Può essere Un fiume con Cioè bisogna puntare più che altro alla sagoma Fai un fiumiciattolo Che va giù così E va su così Ok, tipo una M sembra Abbiamo un problema molto grande Perché potrebbe non essere il fiumiciattolo ma questo E piuttosto potrebbe essere anche visto da un'altra prospettiva Quindi non per forza come vedo io la mappa È un casino Eh già Questo ve lo dico proprio con sicurezza Questo non lo troveremo mai Ci saranno i tre dungeon più difficili da trovare Ma io spero che almeno siano facili da fare Perché Aspetta, là c'è un ponte Quello è un ponte Quello è un altro ponte Ok, ci sono due ponti lì Aspetta, aspetta, aspetta Forse li ho visti Esattamente qua Questo è un ponte E quello è un altro ponte Con tanto di lago Si, era il volodromo lì vicino Apriamo ad andare lì intanto Apriamo a puntarne uno Vedete qua c'era Dove aspetta Ah no, è dentro il volodromo È proprio il volodromo quello Aspetta, aspetta, aspetta Sì, metto una puntina proprio lì Così Tanto per completezza ecco Ora, pensiamo a voi Voi siete molto complicati Lo sapete? Allora, però Ci può aiutare il fatto che c'è dell'erba lì E lì c'è già del ghiaccio? Non lo so Perché questa mappa è tutta marrone Quindi non capisco dove finisca dell'erba E dove inizi dell'altra roba Penso colpisci quattro bersagli insieme Che sia quello del volodromo comunque E le altre Non capisco cosa sia Punta al drago ardente Penso sia oldra Ma come faccio A puntare oldra che si muove? È un problema Cioè io lo faccio Cioè praticamente c'è un percorso In aria da fare Con dei cerchi Però non so come Non saprei come attivare oldra Cioè nel senso Come ci arrivo? Cioè dove? Dove? Anche questo Questo qua è proprio introvabile Aspetta A meno che Questi qua non siano quei Quei funghi sembrano Quei funghi ghiacciati Con sotto il glasio Rock può essere? Fatemi vedere Perché allora Lì ci sono Cioè non sono dei funghi Sono piattaforme Però non mi ricordo dove Forse queste Quindi all'incirca Potrebbe essere qua Al picco di ebra Proviamo a mettere un altro Non lo so Vedete mi sembrano Quelle formazioni rocciose Che comunque sotto C'hanno il gambo Che non è un gambo Ma è qualcosa per tenerle su comunque Cacchio stai Che non capisco Se questo qua è un fiume O tipo l'abisso Quell'abisso Avete presente che porta Il tempio dimenticato Quello là Fatemi vedere Ci dovrebbe essere comunque C'è una M Che fa una M Qualche parte Non fa una M Qua Può essere questo pezzo Però c'ha il laghetto Anche quello C'ha il laghetto lì C'ha il laghetto E lì c'è dovrebbe essere Una piattaforma Dov'è che era? Qua Qua forse? Non lo so È tutto È tutto molto difficile E partiamo già da questo Già che ci siamo Oppure dal volodromo Andiamo dal volodromo No il volodromo è sicuro però Partiamo da quelli un po' più incerti Perché il volodromo sono sicuro che è lì Anche perché poi colpisci quattro cerchi Il volodromo era quello che aveva i bersagli Sarà difficile però farne quattro insieme E fai farne quattro insieme O me li da lui Messi già quattro insieme Perché se no quattro insieme Penso sia impossibile Ma se già riusciamo a trovare il primo E in realtà anche il secondo Il volodromo lo lasciamo per ultimo E sappiamo che è lì Quindi già quello ci andrebbe bene Cos'è che è il giallo? Io ho puntato il giallo vero? Che sta? Dove sta? Giallo? Dove cacchio l'ho messo? Là sotto Dovrei averlo messo qua sotto Il radar lì che sa che mi segna? Gli scrigni mi sa vero? E non posso mettere i sacrari Perché non sono usciti Teoricamente Non sono fuori Quindi non li trova E' molto complicato Bisogna stare Molto attenti Ok là vedo delle fiamme Piano E' là Questo è un piccione? Ok Aspetta scusa un attimo Mi voglio prendere sta roba Arrivo subito eh Ah tra l'altro mi ha dato l'arma No link Devi spaccarle queste Bravo Mi ha dato l'arma sua Del campione Mi sa che con Mifal L'aveva una spaccata La scaglia di luce Ed eccoci qua Sei te? Hai bisogno di qualcosa? Nasli Sei un viandante Non pensavo di incontrarti qua Che ci fai qua? Sono qua Sono qua perché Il patriarca del burgo Mi ha ordinato Di tenere D'occhio il drago Che appare da queste parti Di momento si è fatto vedere spesso Sono tutti preoccupati Che posso avvicinarsi al burgo Non è notte per me Non è notte per me Però appare di notte Aspetto la notte Piove Quindi dovevo aspettare Wow Grazie Aspetterò il freddo qua Mi è andata bene Che è finito Sì vabbè Sono le 4.50 Mi è andata bene Che è finito di piovere Così posso dormirmene E lo aspettiamo meglio Guardalo Guardalo Si è svegliato Dov'è? Dov'è il nostro amicone? E che però Se mi dice che Che passa per sto pezzo Ehi Ehi No è troppo lontano Peccato Sarei andato là Volentieri A incontrare il mio amico Lord Si dura a fare la guardia In realtà Guarda che passa anche Dall'altra parte Adesso non so se è proprio Questo posto Che penso di si Ma Cioè Se è solo da incontrare lui Non è necessario Aspettarlo qua Dove cacchio è Sempre nello stesso posto Fa vedere Sempre al monte Satori Sempre in quel laghetto del cacchio Appare sempre lì il Il rupini Il rupiglio Come si chiama Il lord Comunque quelle cose Che ti danno rupie Quegli animaletti Fosforescenti Faranno sempre lì Quel momento in cui ti senti osservato Ma fai finta di niente E guardi comunque avanti a te Ma quanto cacchio sono altri Sti rovi Porca vacca Cioè Oh è un dannetto lì Oh cosa fa? Mi dà le pacche sulla spalla? Allora mi guardi Mi guardi eh Dove cacchio sta sto drago? Oh Oh Muevas Su Andale Oh Eccolo Buonasera Buonanotte ormai Cacchio Cos'è che devo fare? Devo seguirlo Teoricamente devo seguirlo E devo Prendere i cerchi Devo passare in mezzo ai cerchi Che cacchio c'ha in faccia? Cos'è che cacchio? Devo lanciargli qualcosa? Ci provo? In caso perdo un'altra notte Cosa? Vengo? Da te? Devo correre lì dietro? Cosa devo fare? Non lo so Te fai la guardia Bravo Guardi attorno Non lo so Che sto devo fare? Io per adesso lo pedino un po' Ma non so dove mi porta Dietro non sta lasciando niente No Non lo so Non so dove Dove devo andare Oltra Oltra scusi Scusi un attimo Lei Mi può dare un consiglio Mi son perso No Ha perso il coso? Ha perso i colori? Oh oh Salve No non compro niente Stasera non compro niente Ma ha perso il coso? Oltra Venga qua Stupido drago Niente Gli rubo la scaglia Ok no Forse devo Devo tipo colpirlo Devo colpirlo Prima Che passi Un certo Un certo punto Lo colpisco sulle corna Ci stavo anche Toglietevi Stavo anche quasi azzeccando Quindi prima che passi Un certo punto Io devo colpirlo Dove cacchio stavamo? Cacchio Dove l'ho inseguito io? Vieni vieni Che ti sto aspettando Da un bel po' io Sono qua da un'ora ormai Non è vero Sono mezz'ora Non scherziamo eh Sono già da mezz'ora io qua A far cosa poi? Aspettare un drago? Figuriamoci Dai Caccia il turbo Fai qualcosa Non lo so Muoviti Ti scasso le corna Quello che devo fare E poi vediamo eh Forza forza Muoviti Muoversi Andale 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 Non ci vedo più niente Sto giocando con una mano Calmo Ok Vai Ti stavo aspettando Lo sai? Bel draghetto Mmm Non ho capito Se devo entrar lì dentro Le corna Cosa che non credo Oh Che ne so Che ne so Dov'è Lì Cos'è? Ma va là Mi dà anche il robo? Mi hai dato anche la Il pezzo? Oh ti voglio bene Posso provare Posso provare a Atterrare sul drago? Prendo fuoco Dite? No Mi ha sganciato Nei casini però Va bene Pessima idea Come l'ho detto Però mi dovrebbe Avere dato un pezzo Di corna Grande Non me ne faccio più niente Ormai Vabbè Sempre qualcosa di raro Magari lo vendo In narcotrafficanti Che cacchina Ok Ma come saliamo? Un'altra Un'altra grande idea Andare a prendere Un pezzo di corna Che non ti servirà niente E perdere tempo Nel risalire Perché tanto ci metterai Sei anni Questo qua Sembra una roba Da mission impossible Tipo No questo è snake Ma fa lo stesso Eccoci Stiamo arrivando per te Maledetto sacrare E questo era solo il primo Mi è andata di culo Perché l'ho trovato Questa forse era No Il più difficile Mi sa che è quello Con i ghiacci Perché Questo qua Venomale Aveva proprio la forma Da M Quindi Cercavi qualcosa Che avesse una forma Da M Che fosse O un lago O questo dirupo Infatti Ero Ero indeciso Se fosse Cercare un lago O un dirupo Poi ho detto Però Mi sembrava Un colore diverso Dell'acqua Quindi c'è andata C'è andata bene Sì 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 Blablabla Non mi interessa Non so Sai in quanti Mano benedetto Dai Forza Mira con mano Ferma Fermissimo Guarda Vai tranquillo Cosa devo fare Devo tirare Posso tirare anche le bombe Io no? Tricamente Io gli metto Una bella bombetta Qua Facile Ok Aspetta Fatemi vedere Più che altro Perché Sono molto Infami E mi nascondono Il mio Cacchio Di 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 scrigno Da qualche parte Giusto Dove cacchio me la tira Dai Vai Sono un cecchino Sono un cecchino Nulla da dire Fatemi vedere Va là Guarda che me la mettono Qua sopra No Dove sono? Aiuto Ah ok Aiuto Quando non vedo Dove vado E' brutta Ok Fatemi andare Qua sopra Fatemi vedere Guarda che è lì dietro Ma io ci scommetto Io ci scommetto Tantissimo E infatti Avete visto? Eh? E' per questo Che io non vado a giocare Ma è le scommesse Perché Sono sicuro Perdo tutto Io mi ritrovo in mutande Ok Come non detto Ah Oh Guarda dov'è Guardalo Allora io devo salire lì Però Come faccio a arrivare là? Bella questione O faccio tutto Tutto di fila Nope 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 Morto No Vivo Vivissimo Top Che è che sto dicendo? Non lo so Vabbè Ma dovevo trovare un modo Per andarlo a prendere Però E pare che ho complicato Calcolando che Come faccio a fermare Ha 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 Volevi? 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 Allora facciamo una cosa E Tac E Tac Dai Capiamoci Su Eh Basta eh Questi giochetti Da bambini Molto facile Perché adesso Questo qua Lo fermiamo Mentre È lì Ah Lui si apre Quando smette di girare Lui Lui si apre Ho capito Facciamo così Facciamo così Tac 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 E via E via così Via col vento Toh Ok Dovevo ancora? Ah Quanto cacchio lungo Oh basta Dai eh Ho 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 distrutto Anche sto Sto sacrare Su Confermo Allora la teoria Che ero più Scarso Agli inizi Semplicemente Non posso Metterci un'ora e mezza Per fare tre robe Quando adesso Io Questo l'ho fatto In dieci minuti Ero più scarso Punto Magna tre emblemi Bla 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 Ti daremo un potenziamento Ma non te lo diciamo adesso Quindi te lo diciamo In un altro modo Ok Ne mancano due E uno mi preoccupa In realtà Proprio uno mi preoccupa Trovarlo più che altro L'altro Quello del volodromo Mi preoccupa Sul come aprirlo Però ancora non sappiamo Cosa Quindi Aspettiamo A preoccuparci Preoccupiamoci di trovare Quell'altro adesso So